Al via la campagna Estra ti avvicina e ti informa sui bonus sociali luce e gas. Estra ha distribuito nel 2018 26.000 bonus a famiglie in difficoltà per bollette ridotte di quasi 100 euro annue per ogni tipologia di bonus. Estra promuove l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con l'offerta pura luce, energia che rispetta l'ambiente e si prende cura del mondo in cui viviamo. Si espande il settore di Information Technologies di Estra. La Multi Utility ha chiuso il 2018 estendendo a 662 km la proprietà della rete in fibra ottica con un aumento di 50 km. Attenti alle truffe e a sedicenti venditori, Estra ricorda che il suo personale si presenta sempre con tesserino di riconoscimento munito di foto e nominativo del venditore. Grazie a tutti.